C'è grande entusiasmo intorno alla candidatura di Giorgia Meloni, come dimostrano le tante liste che la stanno accompagnando in questa sfida. Dalla lista di Fratelli d'Italia a noi con Salvini, passando per la lista civia che porta il nome di Giorgia, arrivando al Partito Liberale e alla Federazione Popolare per la Libertà. Ci teniamo a citarle tutte perché si tratta di una coalizione che, diversamente da altre, ha un'anima e una identità di centrodestra. E questo è stato rilevato anche dagli ultimi sondaggi che per la prima volta dicono che non solo Giorgia Meloni è la candidatura più competitiva che può arrivare al secondo turno facilmente, ma è anche la più competitiva in un eventuale scontro con il Movimento 5 Stelle in sede di ballottaggio.